Tassi vostra, l'horror psicologico, questo non è, questo è horror Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo episodio di The Crow's Eye Per continuare nella nostra epopea, andare un po' più a fondo di questo horror psicologico Che tanto vi è piaciuto, nello scopriamo, per cui approfondiamo un po' Ripartendo esattamente da dove eravamo l'ultima volta, però da questa stanza Abbiamo appena aperto, sbloccavo questa porta, levando ciò che la bloccava Ma tra l'altro avremmo potuto farlo anche prima, diceva che la porta era bloccata dall'altro lato Ma se l'apertura era così, avremmo potuto tranquillamente aprire la porta e scavalcare Vabbè, detto ciò io vorrei partire da un'idea, da un'idea del mio amico Gianluca Che sostiene, e potrebbe aver ragione, se andate a vedere nei commenti dello scopriamo di questo gioco Che noi in realtà potremmo essere la moglie del detective mandato qui a investigare sulla sparizione misteriosa Di questi studenti, ci avrà ragione il buon Gianluca? Non lo so Oggi però sicuramente scopriremo qualcosa in più Noi abbiamo al momento il nastro medico, quello con l'adesivo che si usa quando uno si fa male E l'accendino infinito, lo zippo che tutti i fumatori vorrebbero Lo zippo per cui io avrei ucciso ai tempi in cui ancora fumavo Per il resto rimane tutta un'incognita Però, però Oggi faremo la cosa che a me terrorizza a morte No, ma qui non c'eravamo prima però Ah sì, 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 ci eravamo fermati qua l'altra volta, giusto Faremo ciò che mi terrorizza a morte, ovvero andare al piano di sotto Perché c'erano delle scale C'erano delle amarissime scale Ma il bene è che me l'ho spaventato pure l'altra volta Perché devo confessarvi che siccome l'altra volta mi sono scordato di salvare Durante un'altra volta dovevo rigiocarmi tutto in molta velocità Per cui questa qui l'abbiamo già sentito l'altra volta e non ci serve Qua si parlava appunto del fatto che Di questo stress post-traumatico di cui il tizio non credeva nulla Il nostro riflesso non c'è, siamo dei fantasmi, bene Allora Allora, allora Quando ci sono quei cubi deduco che ci sia per essere un enigma ambientale Ne devo preoccupare? Letterina Allora, text Dunque, caro Ben Per quanto possa sembrare strano Non capisco perché nessuna delle mie lettere ti stia arrivando Spero tuttavia che questa ti arrivi La prossima volta che il postino verrà glielo chiederò Avere un sistema di posta speciale per agenti coinvolti in questo caso è senz'altro utile Ma se magari le lettere si perdono Non te vi è dubbio che magari le lettere si rifregano perché fa parte dell'esperimento Se stai avendo un periodaccio lascia perdere La tua salute viene sempre per prima Ad ogni modo ci vedremo tra qualche giorno Per cui aggrappati a questo pensiero Per favore Che insomma valeva la pena tornare alla tua routine È tuttavia una coincidenza che Riccardo Herrero sia una delle persone scomparse Sai già i miei pensieri riguardo a questo argomento Dico sempre che le coincidenze non esistono Io sono perfettamente d'accordo Ad ogni modo non Il cognome Oltwick non ti suona familiare Io a me no Poi se ne so perso qualcosa magari Vabbè La letterina è stata trovata Adesso la domanda è Ma io Sto cubo Dove me lo porto? Io me lo porto I cavi no Dunque Altro nastro Che cosa ci facciamo con il nastro? Nastro più foglio uguale benda No nastro più benda uguale qualcos'altro E infatti Nastro più straccio uguale benda Quindi Nastro più straccio Craft Aha Ci cura un po' di punti vita Io praticamente nel punto in cui c'è la mia faccia Dovrebbe esserci Cioè c'è No dovrebbe esserci Una sorta di siringa in perfetto stile Bioshock Che però adesso è piena Per cui non ci preoccupa La cosa Poi semmai Se ci dovessero essere altri episodi Mi devo ricordare Di spostare la mia faccia Da un'altra parte Ehm Magari in basso Al posto della mappa Che tanto quella La vediamo insieme Se serve Allora Io Dunque se io mettessi il coso qua Servirebbe a qualcosa Sì Mamma mia Ma che genio Ma Oddio Sono pazzi Ma Alla faccia dell'horror psicologico Tacci vostra L'horror psicologico Questo non è Questo è horror Oddio Oddio L'horror psicologico L'horror psicologico Dovebbe essere solo suggestione Non Oddio Infatti C'era una parte di me Che diceva Ma Perché ci devono mettere Il medikit In un horror psicologico E poi l'ho capito Perché ci devono mettere Il medikit Oddio Vabbè Era Era poi Un triste pupazzone Che se l'avessi previsto Non 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 Avrebbe fatto Grande effetto Probabilmente Che non M'aspettavo Niente Niente In questo gioco Se non appunto Qualcosa di suggestivo Wow Vabbè In pratica dice che ha parlato con Che ha interrogato il rettore Il quale Si è dimostrato Un uomo Di alta Levatura Culturale Ma Insomma E che non è uno A cui piace Elogiare Altri medici Quindi La cosa Mi preoccupa un po' Adesso io comincio Ad avere un po' Più di paura Rispetto a prima Ad aprire Qualsiasi cosa Che dovesse Circondarmi Bene Allora qua si fanno Gli esperimenti O quantomeno Si teorizza Una fusione Fra Un Un'ala E un braccio Insomma Lo vedete Una spalla umana Ecco Non mi veniva il termine Spalla Sono dei Momenti veramente Drammatici Allora Il fatto che mi abbiano dato Un altro medikit Mi piace ancora meno Ma Tanto tanto meno Di prima Ancora peggio Adesso mi aspetto Qualcosa da ogni angolo Però 7256 7256 Sarà la E beh L'avevo intravista Dunque Vabbè 7256 Scusate Per inserire un numero Devi muovere La Insomma La 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 Ruota Verso il numero Che vuoi inserire E una volta raggiunto Muovi la La cosa Nel verso opposto 7256 Com'era 7 Ma qual'è il problema Niente Adesso è partito Il pad Mi ha Mi ha preso Il pad Per qualche Arcano motivo Vabbè 7 2 5 E il servo Lo devo fare Dall'altra parte Ok Vabbè Ma io non voglio Giocare col pad Ecco posso Niente Sta impazzendo Il gioco Stacchiamo il pad Onde evitare problemi Voi non sapete Quanti problemi da Niente Ormai è compromessa La situazione Completamente Vabbè Sono solo Completamente Schiavo del pad Perché il gioco Si è bloccato La chiave Che hai trovato Ho avuto Un po' di difficoltà Ho avuto Ho avuto Un po' di difficoltà Un po' di difficoltà E spera di non Vederci Spaventare troppo Quindi sarà per succedere Di tutto Comunque Stavo dicendo appunto Che per qualche motivo Il gioco è andato in conflitto Con il pad All'improvviso Senza che ci fosse motivo Di fare nulla Di tutto ciò Per cui adesso Sono costretto a giocare col pad Spero che non Vediate profonde variazioni Nel Nel modo di giocare L'unica cosa Devo abbassare un po' La sensibilità Altrimenti Mi sento male Allora Ok Ci siamo Dunque 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 Scusate il piccolo incidente Di percorso Ma appunto Se potete Vi consiglio vivamente Di non usare mai Un pad Con Windows 10 Perché è una pessima idea E succedono cose Molto brutte Continuamente Allora Detto ciò Ho fatto questa piccola Ehm Sta ricorda Perché sta per succedere Di tutto Vero Inoltre Non ho idea Di come Allora Ok Posso riaccendere Sì Grazie Mi sono appena preso Un medikit Avrei voluto farne a meno Ma sto gioco Come si salva Tra l'altro Perché Cioè deve essere Un problema La mappa Devo reinventarmi Col pad C'è sempre stato Sto quadro Così brutto Probabilmente Sì Allora Io adesso Devo fare Così Ok Ma se io Non volessi Scendere Ma realmente Mi ribellassi Oh Si può salvare Santo cielo Grazie Risalvo Proprio perché Sto godendo In questo momento Ok Comunque No vabbè Prendo le scale Va bene uguale Grazie Non manco se mi dai i sordi Ci salgo lì sopra Vabbè Fuma Fuma le mastil Si felice La scienza e la religione Del mondo moderno Si è decisamente molto Bioshock Chiave usata Bene Io C'ho sempre più paura Secondo piano Io stavo bene al primo Non ho sentito Questa impellenza Di scendere al secondo Sinceramente Stavo pienamente Soddisfatto Di ciò che ho trovato Nel primo Per me Potevo dare anche Niente Vabbè Sto ascensore Mi mette un'ansia Dio Ecco Adesso che ho il mio Fido Zippo In mano Mi sento Un uomo nuovo Un uomo nuovissimo Allora Text Allora La polizia è composta Da incompetenti Hanno speso Oltre una settimana Sul caso E non hanno trovato Ancora nulla di utile Questo influenzerà La mia reputazione In universitaria Sicuramente Oggi è la seconda volta Che mi interrogano E sono stanco Di dirgli Che Di dirgli cose Riguardo alla mia rutina Alla mia vita personale E fanno un casino Nel mio ufficio E devo così Rimettere tutto a posto Ogni volta Potresti parlare Con gli agenti E chiedergli Per favore Di smettere Di disturbarci Siamo tutti Molto preoccupati E il tempo È prezioso Ma questo Non significa Che devono Lavorare Rompendo le palle A tutti Dov'è L'essere Professionali In tutto In tutto ciò Sono il primo Che è depresso Insomma Dispaciuto Degli eventi Recenti Jack Era il mio studente Preferito Spero che tutto questo Finisca presto Vabbè E io Spacco la bottiglia In segno di Mamma mia In segno di Di protesta Per essere stato portato Al secondo piano Una benda Spettete di darmi Stracci Vuol dire che arriva qualcosa A farmi paura Che Non so Disegni Vero? Vabbè Qua Non sembra Esserci nulla Per cui Ma qua Non sembra Esserci nulla Di nulla Mappa Perché Non mi dà più La mappa Adesso Non è veramente Prossimo computer Mi faccio Un linux Altro che Windows Beh io Ma Perché Vabbè Forza Forza Esci fuori Non ti temo Non è vero Non è vero Non è vero Ma sta cosa C'è qualcosa Di terribimento Oscuro In tutto ciò Vabbè Io Io Visto che qua Secondo me La situazione Potrebbe farsi Un po' Rognosa Direi che forse Potrebbe essere Il caso Di salvare E per il momento Interrompere Qua per oggi Anche perché Insomma Sta cosa del pad Che sta danno i numeri Così la prossima volta Eventualmente Non posso più risalire Perché Niente Sono prigioniero Di questo Del piano di sotto Ah che gioia Ah Che gioia Bene Vabbè Io piuttosto Mi rifaccio Questa parte La prossima volta Piuttosto che appunto Rischiare Di andare avanti Di non avere modo Poi di dare un seguito A tutto ciò Che il gioco Ha da offrire Per cui Ragazzi Niente Io come sempre Vi segnalo Il sondaggio In alto a destra Fatemi sapere Se vorreste Andare avanti In questo gioco Che vorrebbe dire Andare fino alla fine Oppure Se vi basta così Vi premetto Come poi sempre succede Ma lo sto spiegando ormai Con una certa frequenza Che l'esito del sondaggio Non è automaticamente La soluzione Visto che appunto Votate praticamente tutti Sul Cioè c'è una predominanza Del sì In qualsiasi sondaggio Che io faccia Il che mi fa molto piacere Però diciamo che appunto Per evitare che poi Ci possa capitare D'essere sopraffatti E sommersi di cose Da portare avanti Io sto osservando Anche tanti Altri dettagli Relativi appunto Ai sondaggi Ovvero il tempo Che viene visto il video Per rendermi conto Se una serie vi piace Realmente oppure no E il sondaggio È una delle più chiare indicazioni Affinché Io lo possa capire Ma non è solo quello Per cui Tenendo conto di tutto Ovviamente Vi aggiornerò Sul fatto che questo gioco Possa Diventare una serie no E anche appunto Una delle discriminanti La durata del gioco stessa Che spero di scoprire Per vie traverse Prima di decidere Se trasformare Questi due episodi In una serie oppure no Quanto meno però Vi siete fatti sicuramente Un'idea più chiara Di ciò che il gioco Ha da offrire Di ciò che il gioco È in realtà Perché appunto Ci sono anche occasioni In cui uno tende A farsela un po' sotto Detto ciò Vi ho aggiornato Anche su cose parallele Secondarie del canale Vi ringrazio Come sempre Per avermi seguito Spero che il gioco Vi sia piaciuto Vi lascio Immancabilmente Il link alla pagina Stim del gioco In descrizione Affinché potete giocarlo Anche voi Qualora lo vogliate Sembro buonolis Per la velocità Con cui parlo ultimamente E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi